Pell, Pell, il video, Pell, il video. Sono pronto, sono pronto. No, ho capito che sei pronto, ma guarda. Ah, sì, ho capito. Arrivo, 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 hai ragione. Arrivo subito. Avvicinati. Ciao ragazzi. Benvenuti a tutti su Boschi TV. Volevamo spiegarvi come è nata innanzitutto l'idea e poi vi spieghiamo cosa faremo, che contenuti pubblicheremo. Esattamente. L'idea nasce dall'esigenza di fare qualcosa per gli altri, prima per noi stessi e poi per gli altri. Sarà un canale pieno di format con idee differenti. Abbiamo già iniziato a fare delle live su Twitch, che ci siamo stra divertiti. A voglia. E infatti vi lasceremo poi il link del canale Twitch, che si chiama sempre Boschi TV. L'idea appunto nasce per creare una community, per unire più persone, per essere un punto d'incontro, un punto d'unione per tutti. A proposito di questo, scusa se ti interrompo. No, no. Abbiamo creato una community su Discord, che lasceremo anche il link in descrizione, dove ognuno nei momenti più tristi, o nei momenti più felici. Anche, eh. Assolutamente. Per essere una community di... Da arrabbiare. Ah, no, no. Appunto, che io mi... Il presidente non si arrabbi. Entra nella community, scrive un ciao, come stai? C'è qualcuno? E qualcuno risponderà. Vogliamo che giorno dopo giorno, insieme a noi, questa community possa crescere, per far sì che diventiamo un gruppo solido, un gruppo unito, ma soprattutto che possiamo divertirci sempre, con ogni contenuto e ogni settimana, sempre di più. Anche perché, perché ho detto settimana? Perché comunque sarà un canale che andrà avanti a settimana. Esattamente. L'idea nostra è di portare un video a settimana. All'inizio ci sarà un format settimanale, che vi presenteremo tra poco. Poi ovviamente ci saranno le dirette sul canale di Twitch. Io direi di metterci in modo libero. Sono abbastanza comodo, in realtà. Così, poi vi metto così anch'io. Iniziamo col primo form? No. Come no? Visto che il canale è nuovo... È nuovo, giusto? Sì. Non abbiamo nemmeno un logo, ancora. Beh, sta arrivando il logo. Però ne avevo uno io, che ho fatto... Dormendo. No, no, io perché dormivo? Ero stanco, perché ho lavorato per il copione, per il logo, per farti una sorpresa. Ah. Se vuoi, faccio vedere a te e a loro. Se sei... Sì. Siamo d'accordo. Si chiama Boschi TV, giusto? Sì. Questo è la mia idea di logo, ragazzi. Ecco, qua si viene molto bene. Rappresenta... Boschi TV. Bosco... Cioè, tu hai fatto... Tu hai davvero... Hai creato un bosco con scritto TV sotto. Eh. Questa è la tua... Perché è l'unione, gli alberi differenti tra di loro, tutti insieme. Questa è la tua creatività nel creare un logo. Sì. Puoi presentare, se vuoi, format, forse. Grazie. Allora, intanto, lunedì usciranno i video che abbiamo fatto settimana scorsa con Davide Campagna Cotto al Dente e Fabio Faffapix, il TikToker. Li troverete qui su YouTube, così avrete tutti i sottotitoli. Potete riguardarvi la live senza perdervi nessun dialogo e nessun gioco e nessun discorso che è stato fatto. Sempre prossima settimana uscirà un nuovo format che si chiamerà i Pigri in palestra. È una sorta di sfida che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato ad allenarci insieme. Continueremo ad allenarci ogni giorno. Ogni giorno, quando ci riusciamo. Vediamo chi riuscirà ad arrivare ai risultati prima. Ancora dobbiamo capire cosa c'è in palio. Io sono competitivo, te lo dico. Ah, io finché non svengo... Già. Ragazzi, guardate i video perché ci sono delle belle. Sarà carezza settimanale. Quindi un video a settimana, inizialmente sarà già questo. Però subentreranno altri video. In primis, un video del progetto a cui teniamo molto. Un progetto di beneficenza. Assolutamente. Perché il canale è volto ad aiutare il prossimo. E con questo format che si chiamerà, e si chiama già, Make a Wish. Cercheremo di aiutare alle persone che hanno bisogno di un sorriso. A persone meno fortunate. E di rendere soprattutto i bambini felici. E con il video che uscirà fra due settimane, non questa settimana, ma la prossima, sarà il primo episodio di Make a Wish. Quindi non perdetevelo. Si dice così? No, non perdetevelo. Si dice su YouTube perché sia per me che per te è la prima volta, è il primo video. Infatti tutta notte non ho dormito. Per fare il copione, vedi che copione, è una scaletta. Abbiamo tutto. Sì, il logo poi... Il logo è un'esclusiva incredibile. Sì, 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 no, io mi sono emozionato. Mi sono emozionato, l'ho visto e mi sono emozionato. Non riuscivo a stare dentro l'angare. Ti ringrazio. Infatti nei commenti vorrei... Vostro parere, vi piace il logo, non vi piace. E un vostro, la vostra piccola opinione. Tu hai bisogno di un'opinione. Perché a te non piace, agli altri piaci, scusa. Non è bello ciò che è bello? È bello ciò che piace. Io so questo ha detto. Io mi scuso, non volevo. Vi giuro, non volevo. Non volevo. Continueremo con le dirette. Avremo tanti ospiti che porteremo qui anche su YouTube. Ci teniamo a spiegare un po' come funzionerà. Noi pubblicheremo i video dei contenuti qui su YouTube per poi il giorno dopo o nella stessa settimana commentarlo in diretta con voi su Twitch. Perché vi ricordiamo che voi comunque siete parte fondamentale di questa community. Assolutamente. Quindi rimanete sintonizzati. Rimanete informati con i nostri social che lasciamo sempre in descrizione. Ragazzi, grazie mille a quelli che già fanno parte della community. Grazie a chi magari dopo questo video farà parte di questa nostra community. Ci vedremo presto ogni settimana. Mi raccomando, sempre su Twitch, qui su YouTube. Grazie mille. Ci vediamo presto dal Pellicano Ignazio. Un bacio dalla Boschi TV. Ciao.